Ciao a tutti, siamo i Magies of Lotus, benvenuti oppure bentornati nel nostro canale. Prima di cominciare il video vi invito a lasciare un like, attivare la campanella e ad abbonarvi. Allora, in questo video andremo a vedere quali carte di The Lost Caverns of Ixalan potrebbero vedere gioco in Pioneer. E per ogni carta vi dirò il mazzo e ovviamente il motivo per cui quel mazzo vorrebbe questa carta. Allora, partirà in realtà con due carte che secondo me non saranno neanche testate, su cui però penso che Deck Builder un minimo ci hanno pensato, ma secondo me sono due carte che non ce la faranno in Pioneer. Allora, la prima carta è questa, ovvero Confounding Riddle. Istantanea costa tre, guardiamo le prime quattro carte del Grimorio, ne scegliamo una e le aggiungiamo alla mano e mettiamo le altre tre al cimitero. Oppure neutralizziamo una spell e almeno ok, controllore non paghi quattro mana. Allora, in sostanza è un Supreme Will più forte, questa è una carta molto vecchia, molto vecchia, sarà del 2016-2017, che quando uscì fece molto scalpore e effettivamente averne la stessa carta, un counter e una qualità carte, comunque non è male per Control. Il Power Level di Magic, però nel frattempo si è evoluto tanto, quindi sta carta adesso non si gioca manco in Pioneer. Torniamo alla nostra Confounding Riddle. Dov'è che potrebbe aver senso? Potrebbe aver senso, visto che mette le carte al cimitero, in Izath Phoenix, perché in sostanza farebbe quello che fa il Piclock Prankster, ovvero di millarci le carte e di farci scegliere una carta tra quelle millate e aggiungerà la mano. Qual è il problema? Allora, in realtà tutto si, diciamo, riduce al costo di mana. Cioè, costo di mana a tre è troppo e noi in Izath Phoenix difficilmente potremo stare tre mana open. Quindi, neutralizzare una spell, almeno che Oppo non paghi quattro, è una cosa che non riusciamo a fare, raga. Cioè, almeno riusciamo a farla forse in late game, ma a quel punto, in late game, probabilmente Oppo avrà quei quattro mana da pagare. Infatti, sto mazzo qua decide cosa gioca. Stroke, che comunque costa due. E qualche lista gioca anche Spell Pierce, che costa uno. Perché questo non è un mazzo che può stare totalmente open. Cioè, noi comunque dobbiamo fare nel nostro turno Spell, che adesso questa lista non gioca la Sorcery, quella che ci milla cinque carte, e ce ne fa scegliere due e le aggiungiamo alla mano. Forse è di turno su un sei carte, adesso non ricordo. Comunque, è un mazzo proattivo a Phoenix, non possiamo stare open. Quindi questa carta non ce la può fare, secondo me, in Fenici. La seconda carta che non ce la può fare è Lulking Raptor. Questa carta qua, ovviamente, leggiamo all'intanto, 5-3 a questo 4. World 2, all'inizio della fase principale, della prima main phase, aggiungiamo due mana verdi. Quindi cosa vuol dire? Che castiamo, risolve, non fa nulla. Perché la nostra fase, prima fase principale, è già cominciata. E quindi non aggiungiamo subito due mana. A World 2, che è carino, ma qual è il problema? Il problema è che il mazzo che potrebbe testarla, ma che secondo me non lo farà, ovvero Monogreen, ha già la Tartaruga, che si sta testando. Questa lista qua la gioca, ma vi assicuro che non è un must in questo deck. È una carta che, quando entra in gioco, fa subito, rampa subito, almeno che non siamo sfortunati. Nel senso che milliamo tre carte e poi ne aggiungiamo, appunto, ne mettiamo una in gioco tappata. Questa carta qua si gioca in 1x, in qualche lista, e secondo me è nettamente più forte di questo dinosauro. Perché, appunto, il dinosauro, se dopo Oppo ci fa Bratta, o se in qualche modo ce lo risolve, non ha fatto nulla. Certo, c'è il World 2 che aiuta, però, ripeto, quel mazzo lì vuole comunque fare cose subito. Anche se lo fa di Storm the Festival, vuole subito la terra in più. Non vuole aspettare un turno per aver fatto qualcosa, diciamo, per fare qualcosa di concreto. Bene, adesso invece vedremo tutte carte che, secondo me, saranno testate, barra, vedranno giochi in maniera costante. Ovviamente, per ogni carta adesso che vedremo, vi farò io il distinguo. Cioè vi dirò, secondo me questa carta si testerà e poi, come dire, passerà al test. Oppure vi dirò, questa carta si testerà e vediamo, magari non riesco a anticiparvi quanto sarà forte. Oppure vi dirò anche, magari questa carta per l'hype della nuova espansione sarà testata, ma poi sarà accantonata. Vedremo di carta in carta. Allora, partiamo con Alcazzot's Deepest Betrayal. Allora, 4-4, costo 5, volare, legame vitale. Quando attacca, ogni avversario scarta una carta. Per ogni avversario che non può farlo, noi peschiamo una carta. Quando un avversario scarta una terra, mettiamo in gioco un pipistrello 1-1 token con volare. Quando muore, questa creatura qua muore, la facciamo tornare in gioco tappata, come terra, non leggendaria. Cosa dice la terra? Aggiungiamo mana nero, oppure tappiamo 3, la tappiamo, quindi in sostanza dobbiamo tappare 4, quindi questa più 3, quindi 4 in tutto. La trasformiamo, quindi la facciamo tornare la creatura originale. E possiamo giocare questa abilità Velocità Sorcery solo se un giocatore, quindi o noi o l'avversario, stiamo in Pioneer, quindi non uso il plurale che potremmo usare per il commander multiplayer, comunque se l'avversario o noi abbiamo una o meno carte in mano. Dov'è che potrebbe vedere gioco? Potrebbe vedere gioco in una lista che incredibilmente nella pagina di Goldfish, ragazzi, non trovate, ma che è la lista che sta giocando il Trophy Leader di Magic Online di Pioneer, ovvero il giocatore si chiama Weggio e gioca appunto da sempre, praticamente lui mononero. Adesso sta giocando una lista che performa molto bene con Waste Not, in sostanza il mazzo si basa su questo incantesimo, una serie di carte che fanno scartare carte come Ruba Pensieri, Ingo Blanc, Duras, Liliana, e poi ovviamente ci sono carte che vincono da sole come appunto Sheldred. E in sostanza quindi perché potrebbe vedere gioco qua? Allora, la lista gioca Decide Invoke Despair, che è una carta clamorosamente forte, e non dico che andrà a sostituire Invoke Despair, sicuramente no, però questa carta in realtà potrebbe anche vedere gioco, secondo me, in main deck, in 1-2 pen, perché? Allora, il fatto che... beh, ovviamente la sinergia ragazzi con le carte, con far scartare carte all'avversario, il deck funziona così, quindi insomma non devo spiegarvela io, è abbastanza intuitivo. E qual è, diciamo, la chicca? La chicca è questa, che è molto facile, una volta che muore, è molto facile trasformarlo per il tipo di gioco che fa questo deck, perché in sostanza noi tutte le carte praticamente le useremo per fare scartino, per fare removal, quindi è molto probabile che a turno 5, a turno 6 ci ritroviamo senza carte in mano, ed è ancora più probabile forse che Oppo a turno 5, a turno 6 non abbia carte in mano, se no magari appunto ne ha una, che sarà la rimozione che usa per Alcatot, perché ovviamente se non ce l'ho questa, è una carta che se Oppo non ci toglie, vince da sola, un po' come Sheholdred, ma ovviamente Sheholdred costa un mano in meno, contro tanti deck, tipo contro controllo, è meno impattante rispetto a questa, perché questa ragazzi fa svantaggio carte a Oppo, e fa fare a noi vantaggio carte, cioè questa fa tutto, però costa un mano in più ovviamente. E io dico quindi che questa ragazzi può entrare, però scusate vi dicevo, è molto probabile appunto che Oppo abbia 1 o 0 carte in mano, quindi la trasformeremo molto ma molto facilmente, quindi questa è veramente approvata, tra l'altro in Pioneer adesso le spell che esiliano non sono, le rimozioni che esiliano non sono così tante, e vedremo in questa espansione una rimozione bianca fortissima, che entrerà secondo me in 4x in control, ma anche in altri deck col bianco, che non esilia però, che distrugge. Quindi ragazzi questo Alcatot molto molto forte. Potrebbe forse avere un minimo di potenziale anche in Rakdos, la lista classica Rakdos Midrage, anche se in realtà così entriamo appunto nel range delle carte che costano 5, dove ci sono tante altre carte forti. Questa invece è perfettamente sinergica con questa lista qua di Weggio. Poi vi faccio vedere una comune, che siccome è molto carina, è Hidden by Piranhas, Aura costa 2, flash, importantissimo, una creatura, quindi la creatura appunto che incantiamo, ovviamente tendenzialmente quella dell'avversario, perde tutte le abilità e diventa uno scheletro nero 1-1. Allora voi mi direte, ma va, cioè è scarsa? Io vi dico, sì, sicuramente il power level non è alto, però in Pioneer, in realtà anche in standard, si gioca Decide Witness Protection, che fa la stessa cosa, costa un mana in meno, costa un mana in meno, però non ha flash. Vedevo se ci sono altre differenze. Ah no, questa fa cambiare anche il nome, e questa invece no, non fa cambiare il nome. Ok, questa è un'altra differenza. Oddio, non penso cambi troppo questo dettaglio. Secondo me no, non dovrei cambiare. Per come adesso il meta, il fatto che perda il nome, non è un cambiamento rilevante, credo. Ditemelo nei commenti se sto sbagliando. Comunque, in sostanza, secondo me, per il tipo di gioco che fa questo matto, ovvero che cerca di stare open per fare sempre il counter, per fare sempre appunto la crattura con flash, secondo me è molto più funzionale una carta con flash rispetto a una carta che fa una cosa simile, ma che costa un mana in più. Scusate, un mana in meno. Quindi io dico che andrà a sostituire Witness Protection. Poi abbiamo Kitsail Larsenist. Allora, qui entriamo nel range di carte che nel meta attuale non può vedere gioco, o meglio, nei mazzi che si giocano adesso non può esistere, non ci può stare, ma grazie anche un'altra carta che poi vedremo, potrebbe, anzi ve la dico subito, grazie a Cavern of Souls, potrebbe far sì che nasca un archetipo umani multicolor, tipo quello che si gioca in Modern. Vi ho aperto qua una lista moderna di umani e vi faccio vedere appunto come Cavern of Souls, ok adesso ce l'abbiamo in Pioneer. Questa terra, Secluded Courtyard, ce l'abbiamo in Pioneer. Questa, Unclaimed Territory, pure, ce l'abbiamo. Le terre basi, ovviamente, ce l'abbiamo. Qui c'è Canopy, ma ovviamente la carta può essere sostituita con altre lande. e quindi cos'è che vi voglio dire? Vi voglio dire che secondo me potrebbe nascere un archetipo umani multicolor in Pioneer. Leggiamo questa carta però. Allora, 2-3, molto importante quel 3 di costituzione, perché fa sì che la carta non muoia da Bonecrusher Giant. Volare, World 1, quando entra in gioco per ogni giocatore, quindi anche noi, scegliamo fino a un artefatto o una creatura per ogni giocatore e quell'artefatto, quella creatura, diventa un tesoro fin tanto che questa creatura resta in gioco. Allora, ovviamente il bianco, umani in generale, ha appunto questa carta qua, Brutal Cutter. Però Brutal Cutter, apriamolo così lo vedete bene, ha Costituzione 2. Costituzione 2 vuol dire che muore da Bonecrusher. e tra l'altro, tra l'altro, vabbè, questo tocca solo le creature, Kid Sale tocca anche gli artefatti, ma in realtà, ora come ora, non mi pare che ci siano artefatti importanti nel meta. Certo, ci sono quelli che ti può fare monogreen con la side di Karn, però qua c'è, diciamo, ha anche un'altra funzione, perché può toccare anche le nostre creature. Quindi, in sostanza, è importante, perché magari possiamo aver bisogno di quel mana, sacrificando la creatura che è diventata un tesoro, oppure possiamo usarlo, diciamo, per fare un drop che magari fa triggerare un'abilità degli umani per fare qualcosa, e poi, quindi, ci togliamo la creatura, se Oppo ci fa Vratta, questo Kid Sale se ne andrà, ma torna la creatura che nel frattempo è diventata un tesoro. Quindi, secondo me, è una carta molto, molto intelligente, e tra l'altro vola, quindi è evasivo. Quindi questa bella, bella carta. Poi, vi faccio vedere Cavern of Souls. Allora, questa carta qua, secondo me, cosa farà? Mi farà fare un contenuto extra sull'archetipo deck umani. Ve lo farò a breve, e che potrebbe nascere, appunto. Poi, migliora la mana base di Spiriti, in maniera inversimile, e, diciamo, migliora il matchup in G1, in maniera importante, tra tutti gli archetipi, diciamo, tribali, anche se in realtà non si può più usare la parola tribali, e non so quale bisogna usare adesso, so che la Wither l'ha specificato, nei prossimi contenuti lo farò, e migliora questo matchup in G1 contro controllo, perché tendenzialmente controllo, comunque, post-side, i counter contro i mazzi aggressivi, li toglie, e per dare spazio, appunto, alle rimozioni, alle vrate, che ci sono comunque anche in G1, solitamente. Quindi, tra le varie cose che fa, migliora anche, appunto, il matchup contro controllo in G1, ma la parte importante, secondo me, è quella dell'aggiungere mana di qualsiasi colore, proprio quello che serviva a certi deck adesso in Pioneer, Spiriti in primis, parlando di Tyer. Poi, non parlando di Tyer, ovviamente, c'è questo vampiro, che comunque volevo menzionarvi, perché è un 5-4, che costa 5, quando entra in gioco, quando attacca, rianima un vampiro dal nostro cimitero, e perdiamo punti vita pari al costo di mana di questo vampiro. Allora, perché ve lo menziono? Io sono un grande fan di Xander, di questa carta qua, di questo 6-6 e questo 7, che quando entra in gioco, fa sì che un avversario scarti metà delle proprie carte, e quando attacca, migliamo metà del Grimorio di Oppo, questa tra le tre, siccome è l'abilità meno forte, quando muore, un avversario sacrifica permanenti non terra, la metà dei permanenti non terra che controlla. Allora, questa carta qua, appunto, è stata, diciamo, provata in un mazzo vampiri, adesso la lista in realtà più bella, non era proprio questa, era una lista anche con la favola di Kikijiki, perché? Perché in sostanza, noi Lord Xander, qui lo mettiamo in gioco solo con Soarin. Se giochiamo alla favola di Kikijiki, intanto possiamo scartare Lord Xander dalla mano, perché appunto se non abbiamo Soarin, non ci serve. Grazie alla favola lo scartiamo. E poi, quel token di, il goblin della favola di Kikijiki, quando attacca, fa un tesoro di un qualsiasi colore, quindi rampa, e ci dà anche quel mana blu, e anche quel mana rosso. Ora ovviamente, se facciamo la lista con la favola di Kikijiki, in realtà il mazzo è un rosso nero, appunto, quindi il mana rosso ce l'avremo in altri modi, però ci darebbe quel mana blu, quel token, che poi ci può servire per fare Lord Xander anche dalla mano. In sostanza, in quella lista là, con la favola di Kikijiki, possiamo mandare Lord Xander al cimitero, e lo possiamo rianimare con questo. Ovviamente questo, cioè non è una carta che per forza ha bisogno di Lord Xander per fare cose decenti, perché comunque appoggiare a questo 5, con un 5 e 4, che rianima un pezzo, o magari anche farlo a turno 3 con Sorin, dopo che a turno 2 abbiamo perso un vampiro, perché ha bloccato, perché si è preso una rimozione, è una giocata forte. Certo, perdere punti vita non è bello, però Vampiri ha qualche carta per recuperare punti vita, tra l'altro mi pare che proprio anche Sorin, via Lifelink, sì, esatto, fino alla fine del turno col più uno, quindi secondo me è una carta che può migliorare questo archetipo, non credo che lo possa far diventare un Tire, però l'asticella, scusate, si è alzata. Poi, altra carta, forse tra tutte la più bella, è questa qua, o meglio, la più, diciamo, metagamizzata, è questa, cioè più adatta al meta. Cuttile Flunker, allora 3-1 Flash, costo 3, quando entra in gioco scegliamo una. A me le carte modali piacciono tantissimo. Allora, la prima opzione dice, mettiamo un segnalino più uno più uno su Cuttile, per ogni creatura che ha lasciato il campo di battaglia sotto il nostro controllo. In sostanza, se Oppo ci fa vratta, e ci toglie quattro creature, noi a fine turno facciamo questo, che entrerà come 7-5, se Oppo ci ha tolto quattro creature. A Flash, non male. Oppure, guadagniamo due punti vita, e facciamo Scrae 2. Se giochiamo appunto contro mazzi monorosso, può essere utile comunque guadagnare vite, e fare una pescata bella, turno successivo, e fare anche un bloccante, comunque un 3-1. Oppure, la più importante di tutte, forse esiliamo il cimitero di un avversario. Allora, io di questa carta ne ho parlato anche in live. Durante la live, avevo detto come fosse molto meno forte rispetto al Tranquil Free Black, il dinosauro di... adesso vi faccio vedere... il dinosauro di Marsh of the Machine. Adesso ve lo faccio vedere in due secondi. Però non avevo considerato una cosa. Allora, in sostanza, questo quando entra in gioco, o spacchiamo un artefatto, un incantesimo, però ovviamente dobbiamo aggiungere anche il mana verde in più, o esiliamo il cimitero, o guadagniamo 4 vite. Allora, vabbè, questo c'è il malus che dobbiamo pagare, quel mana verde in più. C'è il bonus, che però... c'è il plus, scusate, che fa due cose importantissime, cioè distrugge l'artefatto e l'incantesimo, o esilia il cimitero, sono due cose molto chiave, però c'è un difetto. Allora, il cimitero, che non ha flash, cioè noi il cimitero, per come funziona adesso il Pioneer, vogliamo esiliarlo a velocità instant. Perché? Perché appunto contro Grisfang vogliamo farla instant, contro Fenici vogliamo farla instant, e in tante altre situazioni, ovviamente, le due ho menzionato, penso siano le più importanti, in realtà no, anche contro Lotus Field vogliamo farla instant, perché ragazzi, Lotus Field adesso, come unica win condition, più o meno, c'è Chandra, vabbè, poi c'è anche la terra che si anima, e Liar, però se noi gli togliamo Chandra, e gliela togliamo quando, lui la manda al cimitero, e poi c'è la combo che se la riprende in mano, con la sorcery modale, con la terra modale, ma se noi esiliamo Chandra con questo, la partita praticamente è finita. Quindi, fare 8 al cimitero, a velocità instant, è fondamentale, e questa carta quindi entrerà in mono bianco, Pioneer, tranquillamente, secondo me può vedere anche gioco main deck, perché il fatto che abbia tutte queste tre abilità, la rende versatile contro, appunto, non voglio ripetermi, però appunto contro controllo, contro mazze aggressivi, contro sinergie col cimitero, quindi questo è molto versatile, vedrà gioco sicuramente in mono bianco, ma secondo me in tutte le liste, diciamo, Midrange, che è mono bianco, in realtà è un agoro, comunque anche nelle altre liste, tipo Angeli, verde bianco Midrange, che mi ha battuto l'altra volta su Magic Online, in tutte quelle liste, insomma, che vogliono le creature, questa carta vede gioco. Non penso che vedrà gioco in Enigmatic Pice, perché il fatto di avere Flash, per come funziona quel deck, è abbastanza rilevante, e quindi preferiamo, credo che preferiamo il Dinosauro Verde lì. Poi abbiamo questo Bedrock, Tortoise, Tartarugona, quindi 06, questo 4, fin tanto che il nostro turno, le nostre creature, tutte hanno Ex-Proof. Le creature che controlliamo, con costituzione maggiore della forza, fanno danno a combattimento, con la costituzione invece che con la forza, forte, cioè forte in generale, e lo vedo bene qua in rosso-verde, in Grul Midrange ragazzi, perché il fatto di dare Ex-Proof alle nostre creature subito, quindi entra e fa subito qualcosa, cioè, è importante, quindi non è solo un 6-6 che costa 4, perché ragazzi picchia per 6 questo, quindi un 6-6 costa 4, che è già buono, non trampla, vabbè, ok? Però il fatto di dare Ex-Proof a tutte le nostre creature, nella nostra turno è fortissimo, perché fa sì che la carta non muoia da Wandering Emperor, fa sì che, che non venga esiliata, scusate, fa sì che una volta che noi lo castiamo, Oppo deve fare subito la risposta su una nostra creatura, e quindi noi poi possiamo, diciamo, attaccare Planeswalker e giocatore, senza essere condizionati dalla removal che potrebbe avere Oppo, perché appunto le nostre creature guadagnano Ex-Proof una volta che questa entra in gioco, quindi ragazzi questa qui dentro entrerà sicuramente, secondo me può rubare qualche slot a Antsman Redemption, e forse anche a Dark and War, non è una carta da 4x, perché comunque 4 mana sono tanti, però 2x ragazzi sinceramente ce la vedo, Poi abbiamo Kellan 2x3, costo 2, la parte Sorcery in realtà è un po' deludente, mi spiego, questa è stata la prima carta spoilerata in teoria dell'espansione, e non si sapevano cosa facessero questi token mappa, non mi sembrano un granché questi token mappa, in sostanza ci permettono di fare Explore, tappando mana a velocità Sorcery, però il lato creatura ragazzi è molto forte, cioè 2x3 a costo 2, quando attacca riveliamo la prima carta Grimorio, se è una creatura con costo di mana 3 o meno, la aggiungiamo alla mano, altrimenti possiamo mettere la carta del cimitero, quindi in sostanza noi la facciamo a turno 2, è un 2x3 quindi non muore da boncrash, è un 2x3 quindi comunque è difficile che muoia a turno 2 in una combat, quindi attacca e non deve fare danno per fare innescare l'abilità, attenzione, quindi attacca, guardiamo la prima carta, se è una creatura vantaggio carte, se è una terra e non abbiamo bisogno di terre, perché abbiamo già un'altra terra in mano e fermarci a 3 terre tendenzialmente va bene per i primi 4-5 turni per mono bianco e la mettiamo al cimitero, quindi veramente questa è una carta molto forte, è leggendaria, quindi chiaramente non possiamo giocarla in più di 1-2x, e entra ovviamente qua in mono bianco, ma entra anche tranquillamente nell'ipotetica nuova lista umani multicolor, cosa può prendere, che slot può prendere? Allora, secondo me, anche se questo è un drop a 1, può prendere comunque uno spazietto qua, un posto al posto del recruitment officer in un au pair, quindi perché? Perché tappare 4 mana comunque è una cosa sì che io giocando control contro umani tante volte mi sono trovato nella situazione in cui Oppo può tappare 4 mana, ma solitamente se giochiamo umani la partita insomma finisce prima che noi possiamo usare questa abilità, quindi secondo me può prendere un posticcino qua, ma volendo può togliere anche altro, perché in effetti drop a 1 sono importanti, però sicuramente questo Kellan in 1-1x almeno entra. Poi abbiamo Abuelo, 2-2, volare, word 2, tappiamo 3, esiliamo una creatura che controlliamo, un artefatto, e la facciamo tornare in gioco alla fine della prossima end step. Allora, questa carta qua non va in spiriti, ragazzi, perché non è una creatura che spiriti vuole, non c'entra niente con quel deck secondo me, ma entrerà in Enigmatic Files. Perché? Perché una volta che noi abbiamo Files of Invention e le spell in sostanza le castiamo gratis. E quindi questi 3 mana per esiliare la creatura ce li abbiamo senza problemi. Tutte le creature, ho detto tutte, sì, tutte ho ragione, tutte le creature che si giocano in questo mazzo hanno un entrance to the battlefield. Quindi è molto importante, perché appunto possiamo bouncearci, no scusa, non bouncearci, ma possiamo, non mi viene la parola, comunque insomma possiamo blinkarci una qualsiasi creatura, tranne appunto essa stessa, quindi non si protegge da sola, ma a word 2, e se Oppo gioca una removal qua, col word 2, insomma ha fatto uno per uno, svantaggioso, perché comunque c'è anche questo appunto word. E quindi ragazzi è molto funzionale. Qua secondo me questa carta qui entra, poi ricordiamo che il deck può tranquillamente giocare alle carte in 1x, perché c'ha Enigmatic Incarnation che funge da tutore. Poi abbiamo quasi finito, abbiamo Molten Collapse, Sorcery costo 2, scegliamo una, ma se un permanente, questa è una meccanica nuova di questa espensione, se un permanente è andato nel cimitero in questo turno, possiamo scegliere entrambe. Distruggiamo la cattura di un placewalker, quindi quello che faceva Dreadbor, che si gioca in 1x, oppure distruggiamo una permanente, non terra, non cattura, con costo di mana 1 o meno. Allora, al momento vi dico la verità, fa molto poco in Pioneer, di più rispetto a Dreadbor, perché al momento, mi vengo a pensare, solo ha appunto il forno, quindi è forte contro Witch Soven, e però basta, perché poi di permanenti, che costano 1 o meno, non terra e non cratura, veramente se ne giocano pochi, ci sono i token, i clue, ma ovviamente no, però ovviamente in futuro, chissà, magari potrebbe esserci qualche artefatto, che costa 1, qualche incantesimo, che costa 1, che potrebbe essere molto molto giocato, quindi è un'ottima carta, entrerà subito, perché comunque è meglio di Dreadbor, che si gioca, ma in realtà, la maggior parte delle volte, sarà un Dreadbor. Poi, abbiamo, e ovviamente questa carta, entra in Raktos Sacrifice, che in realtà non gioco a Dreadbor, ma può giocarlo tranquillamente, ed entra in Raktos Midrange, in 1x, credo. Poi abbiamo, questa è una carta di cui nessuno, credo, ha parlato, io ve la segnalo perché, la Will of the Forgotten, ve la segnalo perché, è la terza abilità, quindi Lux, guardiamo le prime tre carte del Grimorio, ne aggiungiamo una alla mano, e l'altra nel cimitero, è la stessa abilità, che è una carta che si gioca in 4x, ovvero, strategic planning, si gioca in 4x, in Attrax Neoform, che sicuramente non è un Tire, però, è comunque un mazzo che esiste, e può dire la sua, l'ho vista in qualche top 8 alle Challenge, e quindi è un mazzo che adesso viene un po' rinforzato, appunto, da questa sorcery, perché comunque, il fatto di avere otto o più permanenti al cimitero, è una cosa possibile in questo mazzo, perché, appunto, abbiamo, abbiamo, questa la giocheremo in 4x, abbiamo questa, che ci fa cimitero, e abbiamo Collective Brutality, e ci dovrebbe essere anche, ecco qua, ecco questo qua, cioè Found in the Third Path, che appunto fa millare 4 carte, tendenzialmente a noi, poi chiaramente, non è che avremo sempre, i permanenti al cimitero, perché? Perché noi qui, quelle carte che mettiamo al cimitero, vogliamo esiliarle, fare Mandrilli, Tasigur, e poi fare appunto, Attrae Neoform su queste due, ma ci saranno delle situazioni, in cui magari avremo, questi otto più permanenti al cimitero, e quindi questa, da semplice sorcery, che comunque è uguale a una sorcery, che si gioca già in 4x, diventa una sorcery, che può fare anche altro, in certe situazioni, quindi direi che è una carta super promossa, poi al penul, ah scusate, altra cosa, io le carte adesso, ve le ho messe in ordine sparso, cioè non è che adesso, le ultime due che vi sto facendo vedere, siano le migliori, penso di aver, cioè sono entrato nello specifico, su ogni carta, appunto nel dirvi, questa entra in un tier, questa non entra in un tier, questa entra in 4x, in 1x, quindi spero che, di essere stato chiaro, adesso mancano due carte, appunto, ed è casuale, che siano appunto, messe qua, come le ultime due carte, allora questa cosa dice, istanta costo 2, come costo addizionale, o paghiamo tre vite, oppure importantissimo, scartiamo una carta, distruggiamo una clattura, o un planeswalker, dove va questa carta, qual è il deck che lo vuole, vediamo se è riuscito a dirlo, entro a 3 secondi, lo vuole Grisfang, perché Grisfang, vuole mandarsi le carte, al cimitero, vuole mandare Parelion, al cimitero, cioè, immaginate sta cosa, cioè, Oppo, fa a turno 2, una minaccia, noi gliela spacchiamo, e scartiamo Parelion, a turno 3, Grisfang, Parelion, GG, è incredibile, cioè, è veramente incredibile, ovviamente, ci sono altri modi, per scartare Parelion, certo, c'è tipo i Raffin's Informant, ma, questo è un modo in più, è un modo in più, che non è che fa solo quello, cioè, è una removal, per Creatura, o Planeswalker, e, se la vediamo in una situazione, in cui non vogliamo scartare la carta, perché magari non ce l'abbiamo, e la topdechiamo, questo instant, possiamo comunque scegliere, di pagare 3 punti vita, carta fortissima, per questo mazzo, veramente fortissima, andrà sicuramente a sostituire, secondo me è fatta il push, ma proprio easy, e, adesso qua non vedo altre rimozioni, però, è una carta almeno da 2x, almeno da 2x, se non da 3x, perché comunque, il fatto che questo deck, abbia così poche removal, che in realtà, vabbè, di side ne gioca, comunque, secondo me, è un po' un limite di questo deck, ma perché il deck non può, cioè, essendo un combo, questo mazzo, non poteva giocare così tante removal, ma questa è una removal, che aiuta la combo, quindi, assolutamente approvato, tra l'altro, il fatto di scartare carta, aiuta anche il delirio, magari ci mettiamo, appunto, al cimitero una terra, il turno dopo, siamo in delirio, possiamo tutorarci quello che vogliamo, carta veramente forte, quindi, poi abbiamo, get lost, get lost, è la carta, ovviamente, che io, da ovicontro al player, apprezza di più, cosa fa? Instantaneo a costo 2, distruggiamo una creatura, un incantesimo, o un planeswalker, a velocità instant, a costo 2, il controllore di tale permanente, crea, due token mappa, token mappa, che secondo me, non sono, tanto ragazzi, o ragazzi, tanto impattanti, che il fatto, di dover pagare un mana, a velocità sorcery, per far explore, e di targettare la creatura, quindi la creatura, può anche beccarsi la rimozione sopra, e lo rende molto, molto macchinoso, quindi, veramente, questo è un must, cioè, credo che andrà a prendere, i 4 slot, della marcia bianca, in control, che, ovviamente, non è che la marcia bianca, non si giocherà più, si giocherà magari, in 2 copie, in meno copie, ovviamente, adesso, questa carta è fenomenale, perché, ripeto, non ci sono artefatti, che stanno comandando il meta, in questo momento, poi, qualora il meta dovesse cambiare, questa carta qua, potrebbe diventare, meno forte, qualora ci dovessero essere, dovessero essere, tanti artefatti, nel meta, o anche un solo mazzo, che però si basa, su un artefatto straforte, bene, ragazzi, spero di, ovviamente sì, questa è la lista in cui andrebbe, quindi nuovi control, ma in realtà andrebbe anche in, in tante altre liste col bianco, chiaramente, Grisfang, no, preferisce la carta, che vi ho fatto vedere prima, non spacca incantesimo, ma vabbè, chi se ne frega, dicevo, questa carta qua, non spacca incantesimo, ma non importa, cioè, tanto anche, per gli incantesimi, non è che ce ne siano adesso, di così impattanti, certo, c'è Shark Typhoon, ma Grisfang, a turno 6, se non ha già vinto, ha perso, e, ecco, tra l'altro, cosa importante, adesso ragazzi, Shark Typhoon, non castatela più, cioè, adesso Shark Typhoon, è solo da ciclare, perché adesso, con questa carta qui nel meta, con Get Lost, fare Shark Typhoon, a questo Severus, a Sorcery, è una follia, ma proprio una follia, bene, fatemi sapere, nei commenti, se ho omesso, qualche carta, e fatemi sapere, cosa anche, proprio ne pensate, insomma, di quello che vi ho detto io, e ci vediamo, alla prossima, ciao ragazzi, grazie, 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 grazie,